Buon pomeriggio, ci troviamo all'impianto sportivo San Paolo del quartiere 167 di Vasto per la gara del campionato provinciale categoria allievi Antep 17, Virtus Castelfrentano e Vigor Donbocco. La impunto. La in fondo c'è il gruppo dei ragazzi che partiranno dalla panchina. La in fondo c'è Tano, primo portiere, dodicesimo Massimini, Diego Pio. Ecco questi kit. La c'è il pubblico, molti genitori dei nostri ragazzi, genitori di Vinci Guerra, se non erro di Menna, di Tano. Siamo alle prossime riprese con le entrate in campo qua dal San Paolo di Vasto, ai prossimi video con le entrate in campo. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.